Ora divertitevi a fare un po' di esercizi di entrambi i tipi. Per esempio, scegliete una nota qualunque come può essere questo Mi, calcolate la sua frequenza e poi controllate il risultato. Potete scegliere anche un tasto nero come per esempio il Mi bemolle e potete scegliere sia note più alte della 4 sia note più basse. Poi fate anche l'esercizio del secondo tipo. Scegliete una qualsiasi di queste frequenze sia di una nota sopra il A4 ma anche di una nota sotto. Per esempio scegliete 220 Hz, questo è troppo facile, scegliete 146,8 Hz per esempio e dovete riconoscere di che nota si tratta. E poi controllate sulla tastiera se il risultato è corretto.